Per cercare qualcosa nel catalogo delle biblioteche dei ragazzi nelle Marche non è necessario un manuale, è molto semplice. Quello che vediamo è semplicemente dove cercare e qualche consiglio per cercare. Dove cercare il catalogo di biblioteche per ragazzi? Basta ricordare che per le province di Ancona e Pesaro Urbino il catalogo è Bibliomarche Nord, mentre per le altre province delle Marche è Bibliomarche Sud. A questo punto possiamo, ricordando questi due aspetti, provare a cercare Bibliomarche Nord Kids che sta per ragazzi o Bibliomarche Sud Kids e trovare rapidamente il link oppure basta partire da una di queste due pagine. Facciamo l'esempio di Bibliomarche Nord dove abbiamo appunto il catalogo come da altri video che sono disponibili nei tutorial e vediamo scendendo che tra le varie possibilità come Media Library, che è la biblioteca digitale e come l'archivio immagini abbiamo anche il catalogo Marche Kids che ci porta appunto alla pagina del catalogo. Qui possiamo, oltre a trovare varie possibilità come le novità, come i libri catalogati per cose da sapere o fare, come arte, musica, spettacolo, possiamo andare ad esempio sia a varie categorie di storie di fantasia oppure, questa è una delle scelte che consiglio particolarmente perché permette di scoprire i libri che altrimenti per ragazzi non pensereste di chiedere, alle categorie per anni. Quindi, ad esempio, andando su 8-10 anni possiamo vedere le possibilità, in questo caso nelle biblioteche della provincia di Ancona e nella provincia di Pesaro Urbino e possiamo ad esempio scegliere una biblioteca che è quella dove pensiamo di verificare se c'è un libro che ci può interessare e a questo punto noi vediamo, per le biblioteche ragazzi, i libri che ci sono disponibili. A questo punto potremmo semplicemente, ad esempio, andare a vedere se i viaggi di Gulliver se nella biblioteca che ci interessa è disponibile, basta scendere in fondo per scoprire, ad esempio, che è disponibile quindi possiamo chiederlo tranquillamente in biblioteca. Dove sono le biblioteche ragazzi? Questo lo scopriamo facilmente da questa pagina perché provando le varie funzioni che sono molto semplici possiamo ad esempio accedere a Biblioteche ragazzi dove vengono elencate tutte le biblioteche delle province del catalogo. È tutto, alla prossima occasione, buon tutto. Grazie. 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 Grazie.